La Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Rudi Ghede condannato per l'omicidio di Meredith Kercher a 16 anni. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione all'udienza di oggi dopo circa un'ora di Camera di Consiglio. Valutiamo se presentare ricorso alla Cassazione, non dipende da noi la parola fine a questa storia. Così, uscendo dall'aula, l'avvocato Tommaso Pietro Carlo, difensore di Rudi Ghede, che ha commentato con i giornalisti la decisione. La Corte d'Appello ha proseguito e ha ritenuto che tra i due giudicati non ci sia neppure a livello di prospettazione astratta una contradditorietà e una incomponibilità, a nostro avviso. L'incompatibilità c'è ed è piuttosto evidente e la revisione andava ammessa. Si erano posti all'ammissione della richiesta di revisione il sostituto procuratore generale Giancarlo Ferrucci e i legali della famiglia Kercher, avvocati Vieri, Fabiani e Francesco Maresca, chiedendo che la Corte, in via preliminare, emettesse ordinanza con cui dichiarare inammissibile per manifesta in fondatezza la richiesta della difesa e condannando Rudi Ghede, che ha promosso la richiesta al pagamento di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende. Richiesta è nella direzione delle quali va la sentenza della Corte commentata a caldo da Raffaele Sollecito, che ha dichiarato oggi Rudi Ghede non è stato condannato in concorso con dei fantasmi, ma singolarmente nel processo che lo ha riguardato e nel quale sono state riconosciute tutte le sue responsabilità. Quello di Ghede, ha sottolineato oggi Sollecito, è un procedimento che non mi riguarda e del quale non mi occupo. Sulla scena del delitto non ci sono comunque mai stati indizi della presenza di più persone, ma solo le tracce di Ghede e la ricostruzione dell'omicidio porta poi a ritenere che sia stato compiuto da una sola persona. Il 16 gennaio prossimo, sempre la Corte d'Appello di Firenze, deciderà in merito alla richiesta di risarcimento di 516.000 euro per ingiusta detenzione avanzata da Sollecito per i quasi 4 anni passati in carcere.